salve a tutti ragazzi siamo in live con valerio il nabbo un coglione con bobble pisello piccolo a riscontrare nei canali vercv allora fammi vedere un attimo una cosa tu cazzo sta no è una maschera no 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 ho comprato la maschera io tien vedi come si vede se si blocca o no open link link open link live con ibsm è in ritardo eh grazie al cazzo è una live genio si ma è troppo ritardo te lo dico io eh si ma che cazzo vuoi giù è tanto che ti faccio che ti che ti sponzo bene si vede coglione si vede bene si vede coglione va bene cerchiamo la cibo ora l'ho messo pure a 1080p voglio provare eh prima voglio provare eh prima voglio provare ehm nessuno riesce ad entrare nel terzo e quinto canale no io no no che bello oh adesso c'ho 3.0 di lucky point vediamo come faccio che palle c'ho tutti i due rossi ah facciamo uno contro uno fammi fare che ponte madonna se faccio non c'ho ne spazio se fate uno contro uno io vado nell'altro clan ve lo dico perché io vado nell'altro clan ma non lo sto facendo e va bene porca puttana non ci sono non mi fa entrare ma è rosso non ti fa entrare mai vabbè seguite facciamola con questi cibo si vieni via guarda come proviamo eh beh gli ultimi due sopporti fate pensare uno contro facciamoci ma la carne oh ma la carne eh ma non dobbiamo aspettare questo ma via faccio i v che te ne fottono contro uno ma che spizzi ci sta vengo io yes si 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 lui è più forte easy vieni tu vieni tu che c'è easy però che fa sabono senza ts per ora cioè che ha detto sabono e cazzo no si ma qua vale io ve l'ho detto qua cioè si deve risolvere sta cosa sul ts cioè a me non mi piace sta sul suo ts non si riuscirà ma non si riuscirà mai a fare un clan competitivo e lo crea una stanza di ts che caggia no no te lo sa di serio perché non si capisce un cazzo gente che entra quando fai cv mi sta sul cazzo e si mette a fa casino cose che oggi sono successo per esempio chi 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 ma infatti chi non sto ts non faccio v blue di aries che cosa ghost ti dava fastidio mo non mi ricordi nome aiuto si per me è ghost approvato sai che questi sono turchetti ma visto che tu sei ricco no eh però che è una stanza sul ts madonna mi il cazzo non è mio eh te lo puoi fare franculino franculino dica franculino visto che è ricco qua non avete capito che siete tutti ricchi tu sei ricco tutti i shoppati danni io tutti i shoppati danni io a me non vanno non va la peace card ogni volta che metto il pen mi dice quando arrivo a mi dice che c'è chi non vuoi è blue di è blue di due mid no uno che l'ho colpita vabbè uno exit ti posso dire che voglio io per ricarico un giorno di questo comunque ok oh ma io non mi metto il pen in peace card la e mi dice mi scelta il rosso ma le precarie per caso devi registrare ma che c'è io mi metto la scritta il rosso mi metto il pen e mi scelta il pen ah tu devi pensare prima a diventare pro e poi puoi shoppare si vabbè so ma ormai c'è il pen ormai c'è il pen oh so primo sucate vabbè poi mi dà la password di tutto fa che onda che te lo faccio io vabbè guarda ecco 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 cioè vedi siamo in gv è internet o no no beh si è mutato anche se ok prendo lascia prendo io lasciatemi vivere vai 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 fuori vai fuori eh so forte di Z2 eh ma se questo qua salta la rana cazzo è andata mid qua a destra sarebbe spara qua sul muro zitto mamma mia veramente ecco perché cazzo non vi state zitti o aiuto vabbè zitto per sempre no ma che c'entra però quando rimango solo così sente pass tranquillo vai no ma che c'entra no ma che c'entra non la cazzo cazzo ma che cazzo cazzo che cazzo sarà abbiamo assicurato che cazzo Questa cv me la voglio fare solo di K2 Sono in tre loro Dai su Approfittiamone Siamo tutti e quattro qua che cazzo fate Stancato No Ucciso Non fare pass E' entrato uno con una stella Raga avete notato? Vabbè Se non mi avessero ancora la vaccina io sarei due stelle Ma io già sono due stelle Vabbè ma non importa che cazzo una stella ho due stelle Tu sei due fiori Eh sì Ma sai quante account ho io Che non utilizzo più gli atti Eh raga ma io santo E manco io Io non preoccupavo io che stavo con neurone Exit sto io ma ancora non usciva nessuno E' stati figa Ma mi hanno fatto da dietro E' morto? No No Da dove? Da dove? Che riga Occhio dietro Oh ma si è rimasti nel giro Sì 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 Mi dice ecco Colpito Ma Cristo Dio Ditelo che non andate exit però Noo ho sbagliato Ho sbagliato Volevo prendere i martelli Dorevo prendere i bambini Basta doyio aksic Volevo prendere i Attod Volevo prendere i è uno base e uno mid nooo perchè non ho cominciato a sparare beh infatti si sono abbastanza scarsi questi vabbè io ne so scherzando che cosa? sono abbastanza scarsi questi si cos'è il vh? vabbè uno mid lascia attenti dietro vale dietro si lo so lo so un colpo ce l'avessi è entrato secondo me sono puliti poi si uno ha la sua opinione mi sto giocando a merda che è la prima ma oggi che cazzo facevi fk sul ts? e non muore porco di addio questi armor di merda non è più giocco non è più giocco nooo 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 cazzo cuorre la mia dalla colana dalla colana E' asculato Comunque mi piace troppo il water blaster Mi impegnerò per vincerlo per me Ma fa schifo A me piace Beh pure a me piace Però io mi voglio conservare Perché mi sa che dove lo mettono Il FAMAS EUTEC Supreme Nooo uno casetta Base l'ultimo Grande Guarda qui si vede stra bene Perché forse giochiamo da un pochino in più Eh speranza non è che siamo forti Per la fine ci mannabbi tutti Nooo questo però Questo però attraverso il muro mi ha preso però stavolta Mid mid Corri Persa Corri Perché mi hai bloccato Perchè ti sei preso il check Non lo so Boh Nooo le bombe Ma fra Che se ne ha betto che lo rush Che culo Che culo di merda Che ti sta di laggando pure Ma che dici mamma Mi allenate dopo Dai facciamo cv che allenate Questo Questo Ti do un consiglio Ti alleniamo Eh esatto Facendo cv con noi Che allenandoti con noi Tancato in test Madonna Mid 2 Vabbè cv persa Rip Ebbè Lui ho provato Ma se questi Sono fattibili Sì Non è che erano fortissimi Cioè forse sono I turchi più scarsi Che abbiamo visto Sì Ma noi Se abbiamo il team Ma perché però Ci sono turchi Mamma Madonna Che manco di tenere A tempo di sparare Sì Altri che invece Come questi Fanno cagare Per quel cazzo Fanno killare di martello Ma vabbè Che altro team Un po' di impegno In più Eh esatto Piano piano Buono buono Infatti Ma non si corre Infatti Ah anzi Oggi pomeriggio Siamo arrivati a 10 Abbiamo fatto due team Oggi Sì Piano piano Il franzi sveglia un po' È da 5 Chi è il quinto Easy Easy Vieni a farci Può Aspetta Cerca un attimo Vedi se riesce A tendrà Provo Ma Non so se Ci riesco Minchia Sono le 7 e mezza Già Ma io voglio uscire un po' A due Vado un po' In giro Minchia Sono senza Un attimo Madonna Sono a piedi Ragazzi Aspetta che chiamo qualcuno Ma lo sanno I tuoi amici Eh Oh Mi viene a prendere Eh perché Non ce l'ho io Vabbè dai Eeeh 8 e mezza Dopo c'è No No A posto a posto A posto A posto A posto No, la perdiamo, fidati. Mettiamo un po' più semplice, pure per loro. Station? Satellite vogliono, satellite. Satellite. Voglio comprare l'AVP, pure qua sopra. Ho il CZ. Quando stanno? Io qui ho CZ, c'è l'HVP. Sul mio account ho tutti i cecchini. Vorrei comprarmi il barre, mi ispira troppo. No, troppo rigolo. Mi ispira troppo il barre. C'ha troppo rigolo e troppo legno. L'M40 è un altro P, è velocissimo, però tanka spesso. Eh sì, l'AVP è quello ideale. Real Animals. Questi sono italiani. Tutte perse ultimamente, vai facciamo. Questi sono italiani. Che cazzo sei? Eh? Questo mi fa, uè, Neuroio, uè, ma chi cazzo sei? Oddio. Vai, ma è l'ultimo CV, mia. No. Siamo... Siamo... Cinque. No. Perché, scusate, non c'è, dobbiamo prendere il ringer, no? Se vuole... Vai, avvia, vai. Vamos. No, ma attacco o difesa non ho visto? Difesa. Ma attacco? Difesa. Dai, easy, ti voglio prosto, cv, dai. Come ti conosco io. Prociutto ti voglio, easy, dai. Siamo di finito, ve l'ho detto io. Ma per 12 giorni a che livello arriva del build? B? Io tra 9 giorni... Non c'ho l'MG. Ha 18. No, Bluti, non sei nabbo. Semplicemente devi prendere un po' la mano. Perché mi dicono? Perché... C'ho l'MG? Ssh, zitto. Occhio, Bluti, eh. S'ho andato. E' morto. Dai, mi ha lasciato questo. Chi è che proteggeva server? Scusa, Bluti, ti ho coperto male io. Due server. Ma chi è che copre ha? Eh, io stavo coprendo tunnel, e mi hanno diritto voglio. Bella, vale, bella, bella, bella. Perché gli si è abbandonato? Che è crash out. No, no, vieni, coso, coso. No, non è crash out. Eh, vabbè, chiama, mamma la cara. No, vabbè, non c'è, non c'è, ha detto che sto tornando, eh. Andiamo. Eh, vediamo. Oh, proteggi server. Shhh. Non c'è, non c'è, non c'è, ha detto che sto tornando, eh. Non c'è, non c'è, non c'è, ha detto che sto tornando, eh. Eh, infatti, uno è mid. Beh, viene a occhio. Due mid. Eh. Da dove? L'avevo detto da dietro, raga. Infatti, non devono mai colpirmi da dietro. Non lo so, Bluti. E' finito, c'è chi no? Non tanto. Non lo sfida, non lo sfida lo stesso. Ah, buttando è perso. Oh, ma raga, ma... Raga, copro io, eh, no, raga. Uno che va a me. Io non vado. Mi sto andando a B. Perché? Mi sticco, è curiosa. Ma perché vieni qua, no? Perché due A, due B, uno mid, no? Due A, due mid, uno B. Genio, si ci si... Ah, minnaggia. L'ho fatto sempre così. Straitato. Quello con l'arm. No, merda. C'è chi non serve. C'è chi non serve. Ma che giro da vibra? Ok, easy luck, gabbè. I'm killed. No, merda. Che lag. Blue, di che server? Dato A. Blue, di per volcare, usa caps lock. Bravo. Madonna ormai t'ha sentito. Vai, sta qua, già faccio la tua. No, raga, cecchino, non ci dovete uscire così. Come fai? Se ci esci così lentamente, è logico. Ti ha sentito. Ti ha sentito che salivi. Ti ha sentito salire condotto, eh. Ti sento. Due mid. Tre mid. Vabbè. Vabbè, sono già saliti. Uno mid, cioè. Eh, preso, preso, preso. Vabbè, mettiti l'arma. Non mi conviene. Vabbè, mu, si affaccia. Madò, come hai fatto? Madonna, come l'ho felato. Mamma mia. Sei, mamma mia. Perché pensavo guardasse me, no? Quindi restavo lì. Eh. Va bene, va bene. Vengo con te B? No, no. Ora secondo me vengono B, però. No, 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 bludi, tranquillo. Non esate. Tu, eh, server, server. Vai, vai, non è B. Scala, sa... Vabbè, ora. Hai arma. Hai arma. Una server. C'ho la madonna. Ah, ma dai, accanto. Gli è passato. Due sopra mi, tre sopra mi. B, bludi. Che fai? B, blu. Finissimo. Beh, non se le esce. Raga, prestate un po' di più attenzione ai passi intorno a voi. Non... Non andate come se niente fosse. Con la fumogena. Ssh. Va di no. Nid, aiuto. Eh, ma io va di no. Da una mano. Colpito. Mi sono feritissimo. L'uno l'ho colpito. Nid. Vabbè. Vanno B. Co... Madonna santa questo. Eh, sopra A. Due sopra A. Vabbè, vanno in A. Come? Cb... Ma dove è dietro il muro? CbSK, già sai dove siamo, raga. Guarda qui, hai ricevuto golden, eh, fakes. Bellissimi, di piazzata a voi. Dani, mille, il, ti ha ricevuto Tom. Wow. Oh, qualcuno viene mid. Fortuna, 2, 2, 1. Io sono bimbi. Ecco, non te ne dai. Questo, cbSK, mi puzza. Già, stanno. Tutti a stun. Raga, però non coprite mid bene. Vado io mid. Ma sto solamente io, per il momento 2-2-1. Ehi, devi stare 3-1-1. Vabbè, ora zitto un momento. Eh, vabbè, ho perso. Questo qua... Eh, tanca in testa, madonna. Questo qua mi puzza. Tanca in testa. Capì? Chi va a mid? Io, io. Vado io. Vabbè. 600. Torna su, io te lo consiglio. Tanca in testa. Tanca in testa. Vabbè. Tanca in testa. che poi manco italiano wow 2 in A ragazzi arriva torna su vabbè però non mi ha aiutato non posso farci niente guardalo oh io ero tankatissima ti metto in mid tankatissima sono tankati tutti mamma mia questi mi fanno propria puccia mi sono morito guarda che sto a scrivere io che è di jugger eh qui ok 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 Andiamo, andiamo Edente, venite No, venite neri, ho scoperto. Veloce, veloce. È libera, bitch, sono dentro, scusa eh. Nooo, uno sta... Vada, venite, vada. Allora aveva ragione, si è morito stavolta. Vale, controlla prima. Non ho sentito passi. Ludi, ce n'è uno lì, no. Anzi, sono due, no. La bomba è stata piazzata, assicura il secondo. Bello a blu, tranquillo. Da 9c, Samu. Tutti e due? Uno. No, vabbè. No, 10, 11, 10, no. Ehi, dopo di usare il mio counter, i neuroti fanno in posola. In via, vado su WhatsApp e vediamo. Sì, no, ti registro. Eh sì, qua sono d'accordo con te. Eh? Qua sono d'accordo con te. C'è da te, guardare che mi mette. Mi sembra strano che l'hanno passata tutte. 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 Sì, qua sono d'accordo con te. Sì, qua sono d'accordo con te. Mi sembra strano che l'hanno passata tutte. Come? Chi va dove? 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 Allora sto troppo congi andato da scrivere, non mi sta congi andato peggio. Oddio. No, dai! Oh, porca troia. Ho giocato bene. Oh, a parte qualche cosa, però secondo me non cheat. È impossibile che ti viene tutto disparato e ti fa HS così con colpa. Eh, beh, magari avranno recoil. Senti, sento la gara. Quello è illegale, non recoil. Non so. Ma avrà, ma non è... No, tipo, io non finisco quasi di andare, però. Non è una SD. Ma Dio santo, che cazzo controlli? Pecchino sopra... Vieni B. Ma perché c'è andato? Dove proviene? Mid. Non ci uscire, non ci uscire. Resta camperato. Samu che cazzo stai... Samu che... Cosa fai Samu? Lascialo! Sta sbrantando! Sta sbrantando, vai! Siiii! Tutta mia! Prego! Mamma Samu quanto hai rischiato, madonna Tutta mia! Troppo forte! No, me ne scappo, ciao ciao! Mi do uno! No, è finita! No, la re no! Ma io me ne devo andare per questo! No, fammi prendermi una cosa nemmeno! Zitto un po' Eh la madoma ha levato tutti gli HP Presi in testa Non mi sparava Non mi sparava Va bene, non lo fai bene per me Io me ne vado Io vado a mangià Vediamo forse stasera A che ora? Un po' verso le 10 e mezza, 11 Babbini, ci sono ci sono Aspetta no no, ti mando Ti mando un messaggio in casa Vabbè